La cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione della scuola Mazzini, una scuola chiusa qualche anno fa, a breve sarà riconsegnata alla popolazione un luogo storico nel centro storico. Per me non doveva essere chiusa per dire la verità, però abbiamo ottenuto questo finanziamento, stiamo andando avanti, riconsegniamo una scuola nel centro storico, la più importante scuola che avevamo nel centro storico. In questo quartiere ci siamo cresciuti tutti, tutti siamo passati da questa scuola e credo di dare, non credo di svelare un segreto dicendo che è un progetto che prevede comunque e complessivamente la riqualificazione di tutto il centro storico. Quindi ridare ai nostri ragazzi questa importante struttura adeguata, a norma, con la palestra, con le aule per l'informatica, credo che sia stato veramente un passo in avanti. Oltre a questo abbiamo consegnato anche i lavori di Via Forne, partiranno anche i lavori, avremo la nuova scuola di Santo Ianni, abbiamo ristrutturato i quelli di Catanzaro Lido. Stiamo cercando di mettere mano soprattutto alle strutture scolastiche. Passare al mondo dello sport perché educa fortemente i nostri ragazzi sull'impiantistica sportiva e inaugureremo molti impianti. Per quanto riguarda oggi il finanziamento tramite i fondi PAC? Il finanziamento tramite i fondi PAC è stata una grande impresa, non ci sono solo quelli della scuola Mazzina, ci sono anche quelli di Palazzo Fazzeri e di Piazza Matteotti, ma soprattutto questa gara che è un appalto integrato, i lavori dovrebbero terminare entro il 31 dicembre, dato in cui dobbiamo rendicontare. Quindi abbiamo pregato la vita circa 2 milioni a 8, circa 3 milioni. Cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione della scuola Mazzini nel pieno centro storico di Catanzaro. Siamo con l'assessore ai lavori pubblici Giulia Brutto e con l'assessore alla pubblica istruzione Fabio Tararico. Assessore Brutto, un luogo, la scuola Mazzini storico, nel centro storico sarà riconsegnata alla popolazione? Sì, un evento molto atteso, molto atteso credo da tutta la cittadinanza e in particolar modo dagli abitanti del centro storico, anche perché la riqualificazione e l'apertura dell'edificio potrà portare nuova vita a tutto l'intorno. I lavori dovranno concludersi entro la fine dell'anno 2016, in modo tale da poter consentire poi con l'anno prossimo di riprendere le attività didattiche. Consisteranno nell'adeguamento statico dell'edificio, nell'adeguamento impiantistico all'insegna del risparmio energetico, al fine di creare degli ambienti, degli spazi per lo svolgimento delle attività didattiche, insomma, riqualificati e idonei. Non solo gli spazi interni, ma anche gli spazi esterni avranno nuova vita, avranno nuova vita consentendo quindi ai ragazzi di poter vivere anche all'aperto le attività extradidattiche. Io voglio pubblicamente ringraziare il settore lavori pubblici perché è stato attentissimo nello sviluppo della pratica e nel difendere questo finanziamento. Ci siamo riusciti, oggi è un giorno importante, sarà ancora più importante il giorno in cui poi la ridaremo a questi ragazzi che saranno parte fondamentale poi dello sviluppo del progetto formativo di questa scuola. Ora siamo con la professoressa Flora Albamotto, la dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Catanzaro-Est che in base al nuovo dimensionamento scolastico insomma comprende anche le scuole del centro storico. I lavori dovrebbero finire entro fine 2016, di conseguenza a breve ormai possiamo dire che questa scuola Mazzini sarà riconsegnata alla popolazione, lei come ben sa questo è un istituto veramente nevralgico. Abbiamo vissuto con grandissima emozione questo momento di avvio dei lavori che il sindaco ha inteso estendere alla nostra presenza, nostra ma soprattutto dei bambini e delle famiglie che per lungo tempo hanno spiccato la ripresa delle attività della scuola Mazzini. Credo che questo progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale abbia un significato straordinario per la città perché significa recuperare un patrimonio storico importantissimo, recuperare un sito formativo che ha dato menti illustri alla città e ha portato il nome di Catanzaro fuori dai confini comunali, regionali e nazionali per offrire un'opportunità formativa avanzata per la quale noi cercheremo al massimo di dare tutte le possibilità, le forze e le energie. Quindi ho vissuto con grandissima emozione l'emozione che traspariva dagli occhi dei bambini ma soprattutto delle mamme che a loro volta erano state allieve di questa scuola prestigiosa e auspichiamo che entro poco tempo possa rivedere la piena attività.